Il terrore e la morte Oh cavolo, ho dimosticato una riete a casa Non sarà un dispositivo mortale, ma per vincere devo solo rallentarvi C'è una porta chiusa qui Solo un idiota Poteva mettere qualcosa lì Non vivrai così a lungo da usare quell'affare Oh 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 Non è niente Non è niente Già ricordo la ricompensa Spassiva Oh 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 Siete pronti! Siete pronti! E' stato fin troppo facile! Aspettate a cantar vittoria! Ci mancava poco, Carlo! Mi ha salvato la vita! Non ci siamo! Siete più lenti dei non morti! La porta è chiusa e a voi resta poco da vivere! Come avete fatto? Davvero inaccettabile! Ehi, va tutto bene? Niente! Dove siete affiniti? Sto, grazie! Forse siete più dure di quanto immaginassi! E' ora di fare sul serio! Vi porto un po' di compagnia! Vi divertirete un mondo! Il parassita del Nemesis, il vostro virus dei non morti! Viviamo in un mondo strano, ma perfetto per gli affari! Non male! Volete la Stars? Ve la dottino, la Stars! Facciamola finita! Arrenditi ora! Arrenditi ora! Per te è finita! Non nel migliore dei modi! Niente fretta! Potete morire qui come nella prossima area! Perchè pagare me? Potrebbe uccidervi chiunque! Le mie trappole vi hanno rallentato troppo! Poverini!